... effettuare il volo ancorato, quindi ci scusiamo per questo ma non dipende assolutamente dagli organizzatori ma... ... spettacolare, si sente meraviglioso, è il calore... ... spettacolare... ... e confermato lo spettacolo invece dell'E21 Night Glow perché non prevede passeggeri... ... bruciatore incredibile... ... guarda che bello vuole di fare... ... ah con il tramonto che bello... ... meraviglioso... ... grazie a voi eh... ... bravi veramente... ... complimenti... ... un lavoraccio questo eh... ... eh... ... ma questa è antica... ... si... ... lei è proprio Carlo? ... si... ... di tutte? ... di tutte... ... lei mi deve aiutare proprio per uscire su un paolo... ... no... ... non si preoccupa così... ... si... ... esco da qui... ... da 40 anni che sono salito... ... allora un saluto al signor... ... Charbonnier... ... Charbonnier... ... siamo stati più fortunati... ... ahè... ... ehè... ... ... di roma c'è poi da questa parte... ... tranquillo! E ora tu? ... si? ... un po' del roma... ... adesso... ... fatti tutto le... ... no no... ... no... ... non ho! ...